Francesco, partita molto maschia, un buon primo tempo, poi nel secondo tempo la Terrana vi ha preso le misure e voi siete usciti proprio mentre la squadra Umba sembrava prendere il sopravvento. Ma sapevamo che era una partita difficile, siamo riusciti a sbloccarla per un episodio e niente, la ripresa, c'è stato questo tiro da 30 metri che l'attaccante ha deviato e forse ci eravamo abbassati un po' troppo, però poi siamo stati bravi a rimetterci subito in partita e a far gol. Il risultato è fondamentale, ci permette di lavorare bene e di continuare su questa strada. 15 punti sono un buon mattino, un mese fa eravate ultimi Francesco. Sì, sapevamo che dovevamo soffrire all'inizio perché era una categoria nuova e l'ambientamento è passato, quindi adesso siamo pronti a giocarci con tutti. Per quanto riguarda la Ternana, il loro mister era molto arrabbiato col portiere, è difficile trovare un mister che se la prende con un suo giocatore, però Tessera ha detto chiaramente che su quei palloni bisogna andarci con la mano e metterli in calcio d'angolo. Questo è il segno di nervosismo di una squadra che non fa punti da tanto tempo. L'allenatore valuta, giudica quello che si fa in campo, quindi se ha detto così saprà gestire le situazioni e magari rimproverare il proprio giocatore. Ecco, questa qua si poteva definire una sfida salvezza perché insomma la Ternana non ha tanti punti, questi sono punti che contano doppio per voi? Sì, diciamo che era uno scontro diretto e dovevamo vincere perché comunque in casa bisogna fare punti. Siamo stati bravi e adesso andiamo a Perugia consapevoli delle nostre forze e siamo pronti a giocarci anche lì. Personalmente come state? Abbiamo visto molto bene lì a centro campo stasera. Sì, sto bene fisicamente, cerco di lavorare duramente durante la settimana e cercarmi di farmi trovare pronto in qualsiasi occasione. Grazie Francesco.